Nella penultima gara di campionato l'Arezzo affronta la trasferta di Novara. Nel giorno tradizionalmente dedicato alla festa dei lavoratori, Capuano e i suoi si trovano di fronte ad una formazione, quella allenata da Mimmo Toscano, tornata in piena corsa a promozione con la riduzione di 5 punti dell'iniziale penalizzazione e attualmente a sole tre lunghezze dal bassano capolista. Una partita in cui gli Amaranto cercheranno di consolidare l'ottima posizione in classifica, mantenendo vivo il sogno Team Cup. Vogliamo finire questo campionato con una classifica ancora più importante, quindi la vogliamo rimpinquare. Andremo a fare la nostra partita convinti di affrontare la squadra più forte in assoluta, guidata da un allenatore fortissimo, che io ho avuto anche l'onore di allenarlo a Nocera, era un centrocampista, molto bravo, molto intelligente, però sicuramente non partiamo battuti. Torna il 3-5-1-1 con una novità tra i pali. A difendere la porta Amaranto ci sarà Antonio Rosti. Una decisione non legata al problema fisico che Benassi ha riscontrato in allenamento, ma già precedentemente presa da mister Capuano. Gioca Rosti perché avevo programmato da tempo che le ultime tre partite le avrebbe giocato questo ragazzo, perché lo merita per serietà e anche per vederlo all'opera, perché è un ragazzo, secondo me, anche un giocatore forte, che potrebbe anche essere utile per il prosieguo. Poi con il Monza ho cambiato idea, ma le ultime due partite sicuramente le giocherà questo ragazzo. Volgendo lo sguardo al futuro, come la società di Viale Gramsci sta facendo sempre più spesso in questo ultimo periodo, all'ipotesi che l'Arezzo possa rimanere nel girone A, quello del Nord, e non giocare nella prossima stagione in quello centrale, ricco di derby, Capuano risponde così. Io ritengo che noi dobbiamo essere bravi nel fare una squadra importante. Poi a qualsiasi esso sia il girone non avremo problemi. Andando nel girone Nord noi perdiamo tanti soldi, questo sia ben chiaro. Le trasferte costano in maniera notevolmente maggiore e perdiamo gli incassi. Però se questo ci deve dare la convinzione che possiamo fare un campionato da protagonista perdendo tanti soldi nel girone del Nord non abbiamo problemi. Se dobbiamo fare il girone centrale non abbiamo alcun problema. Anche rischiando il campo di carattere.